Ciao a tutti, il nostro ormai consueto buon lavoro e un ben ritrovati da tutta la redazione a questa prima puntata di rientro dalle ferie estive, la numero 218 di Nuovi Lavori in Corso, il magazine di informazione sindacale curato dalla Cigiale di Parma, che vi propone notizie sul mondo del lavoro e dei contratti, diritti, la previdenza, lo stato sociale, l'immigrazione, la tutela del consumatore. Come nostra abitudine in questo periodo di riapertura dopo le chiusure di Ferragosto, apriamo oggi la nostra pagina principale con un primo sipario sull'autunno che ci aspetta. Un autunno denso di appuntamenti, ma soprattutto di problemi sul tappeto ancora tutti da sciogliere, a partire dalla pesante eredità di debiti e guasti con cui la giunta Pizzarotti deve confrontarsi. Patrizia Maestri, segretaria generale della Cigiale di Parma, li mette in fila per noi. Siamo ormai a settembre, questa giunta ormai si è insediata dopo qualche mese e noi quindi aspettiamo, il sindacato aspetta che questa giunta affronti quegli impegni che in campagna elettorale aveva appunto elencato, ma soprattutto affronti quei problemi che attendono soluzioni, soluzioni che saranno sicuramente difficili, ma crediamo che gli amministratori di questo comune debbano comunque affrontarli. Vogliamo capire se nel bilancio preventivo per l'anno prossimo ci saranno appunto concretizzati con gli impegni sul sociale che erano stati assunti, se verrà affrontato il tema delle tariffe, i temi dell'addizionale IRPEF che abbiamo denunciato già essere troppo alta per questo nostro comune, il tema dell'IMU, quindi tutto quello che significa tasse dal punto di vista locale. Sul sociale abbiamo una serie di problemi aperti, dall'ASP ai servizi educativi, alle persone disabili, quindi interventi che necessitano sicuramente di risorse, ma anche di idee. Quindi abbiamo un incontro previsto sui temi del sociale per il 25 di settembre, ma crediamo che tutta una serie di altre questioni debbano essere, come dicevo prima, concretizzate il più presto possibile. Non possiamo fermarci solamente agli annunci. Vertenza Parmalat si sono svolti di recente un incontro pubblico, uno sciopero con presidio dei lavoratori e altri appuntamenti ancora sono in agenda per tentare di contrastare il piano di esuberi e la riorganizzazione aziendale annunciati dall'Actalis. Scelte a cui i sindacati di categoria guardano molto preoccupati, considerandole l'anticamera di un pesante ridimensionamento per quella che da sempre è una delle più importanti imprese agroalimentari del territorio. Ci aggiorna Luca Ferrari, segretario generale della Flai Cigiele di Parma. Gli scioperi del 28 agosto sono andati molto bene, c'è stata una grande partecipazione da parte dei lavoratori e questo ci ha confortato. Avevamo svolto le assemblee poche giornate prima, avevamo visto che c'era partecipazione, ascolto, domande, interesse e la riuscita anche in ambiti lavorativi in cui normalmente la partecipazione dei scioperi era molto ridotta, ci fa capire che i lavoratori sono con noi, hanno compreso le ragioni della mobilitazione e ci seguiranno se dovessimo ulteriormente proclamarne altre. Il 3 settembre incontreremo l'azienda presso l'Unione Industriale Parmense per la procedura di mobilità che è aperta in maniera unilaterale, non ci aspettiamo grandi novità e rimandiamo le prossime notizie, i prossimi aggiornamenti dopo l'incontro col Ministero a Roma. Lì forse sarà l'unico momento in cui effettivamente si potrà portare l'azienda a modificare almeno in parte il proprio piano industriale. Passiamo ora al settore metalmeccanico per parlare di due aziende, entrambe in zona pedemontana dai destini contrapposti. La Tool Express di Lesignano, recentemente uscita da una pesante vertenza risolta positivamente, e Alfa Derivati, storica azienda collegchiese che sta attraversando una pesante crisi con concreti rischi occupazionali e produttivi. Aldo Barbera, segretario della FIOM Cigiale di Parma, ci racconta queste due facce di una sola medaglia. Oggi volevamo informare su due vertenze della zona pedemontana, che ha visto la FIOM impegnata in queste settimane e che la vedrà nelle prossime. Due vertenze che stanno avendo degli esiti diversi. Una, fortunatamente, si è chiusa in maniera definitiva e positiva, ed è la vertenza della Tool Express, un'azienda di Lesignano dei Bagni, che nelle settimane scorse ha visto i lavoratori addirittura occuparla per due settimane. Una vicenda che ha dell'incredibile, perché rischiava, dopo essere fallita una prima volta, essere stata ripresa e acquisita da una nuova azienda, rischiava di chiudere nuovamente per un problema di tipo procedurale legato alla curatela fallimentare. È la notizia di questi giorni, l'azienda è stata definitivamente venduta all'azienda affittuaria, che quindi ha dato la possibilità ai lavoratori di mantenere il proprio posto di lavoro e quindi di salvare 21 unità. La seconda vertenza, invece, riguarda un'azienda del territorio di Collecchio, l'Alfa Derivati, un'azienda di Brescia, con 50 dipendenti, che nelle scorse settimane ci ha comunicato la volontà, per una crisi devastante di mercato, di chiudere l'unità operativa di Collecchio, cosa che metterebbe in discussione 50 posti di lavoro. Abbiamo iniziato una trattativa serrata con l'azienda e la richiesta da parte nostra di mantenere il sito in produttività. Nelle settimane che verranno ci vedrà presenti in questa vertenza anche al tavolo provinciale e tenteremo in tutte le maniere di far recedere l'azienda da questa decisione. La scelta che come sindacato abbiamo fatto è chiaramente quella di trattare fino all'ultimo e cercare di mantenere vivo il sito. In alternativa ci poniamo l'obiettivo di salvare quanto più posti di lavoro possibili, ipotizzando anche un trasferimento di alcuni lavoratori nel sito di Brescia. SOL, un acronimo che molti disoccupati e lavoratori precari hanno imparato a conoscere, soprattutto in questi ultimi anni in cui la recessione ha portato ad aumenti esponenziali di persone in cerca di lavoro. Sempre più numerosi sono infatti coloro che si rivolgono al servizio orientamento lavoro della Cigelle di Parma che da oggi mette a loro disposizione una novità, una banca dati per conoscere le offerte di lavoro delle aziende nazionali e internazionali. Laura Lambri, responsabile del servizio, ci spiega di cosa si tratta. Il SOL, Servizio Oriente Lavoro della Cigelle di Parma, offre assistenza e consulenza professionale alle persone per cui il lavoro è un tema da risolvere e lo è per chi ha perso il lavoro, chi deve compiere una scelta e per chi vive situazioni conflittuali e o di insoddisfazione. Oggi siamo qui per parlare della ricerca di lavoro e per presentare un nuovo strumento di cui il SOL, unico a Parma, si è dotato per agevolare chi è alla ricerca di lavoro. In ogni azienda esistono posizioni palesi e posizioni nascoste. Sono palesi le posizioni che la Direzione Risorse Umane affida all'esterno, centri per l'impiego, società di ricerca e selezione del personale, agenzie, annunci e così via. Sono nascoste tutte quelle che non vengono affidate all'esterno e di cui viene a conoscenza solo chi ha un contatto diretto con l'azienda. Chi cerca lavoro quindi per aumentare la possibilità di successo deve sapere accedere ad entrambi i tipi di posizioni. Per presentarsi direttamente alle aziende è importante imparare a condurre la propria ricerca di lavoro in chiave marketing, come fosse il lancio di un prodotto. Diventa anche indispensabile disporre di strumenti che permettano di identificare il target di azienda a cui presentarsi. Per questo motivo il SOL si è dotato di un database di oltre 3 milioni di aziende, nazionali ed internazionali, per aiutare chi cerca lavoro a trovare contatti sul territorio e all'estero. Sottolineo che l'utilizzo del database è parte integrante di un processo di orientamento, pertanto segue l'autoanalisi professionale e si accompagna al rafforzamento di capacità e strategie di comunicazione. Chi è interessato ad avere maggiori informazioni può telefonare in CGL al numero 0521 2979 e chiedere del SOL. E chiudiamo sui pensionati. Dopo le nuove recenti polemiche sulla sorte dell'Aspad Personam e il suo buco di bilancio, torna ad attualità la questione dei servizi agli anziani del nostro comune. Un tema che continua a preoccupare il sindacato pensionati della CGL di Parma, che con il suo segretario generale Paolo Bertoletti ha ribadito l'urgenza di tornare ad investire sulle strutture e sui servizi per la terza età. Troppo le questioni sono due. Uno, che questa amministrazione comunale non può più permettersi di perdere l'altro tempo, pensando di fare una serie di passaggi di ingegneria, di comunicazione che comunque non si capiscono, perché quello che c'è da fare lo sappiamo già, c'è solo da agire. L'altra cosa, cosa si vuole fare? Allora, l'Aspad Personam ha una situazione finanziaria drammatica, è vero, perché comunque come tutte le Aspe fa fatica a rimanere comunque in pareggio. Qui però c'è stato anche dell'altro, qui c'è stato che la vecchia amministrazione comunale ha scaricato sull'Aspad Persona una serie di costi che sono quasi equivalenti all'indebitamento. Quindi noi crediamo che ci sia, una volta che si è superata questa fase, la persona, non dico che stia a pareggio, ma comunque molto vicino al pareggio. L'altro problema è che è impensabile oggi vendere ulteriore patrimonio immobiliare, che intendo lo Stuart o altre cose che possono esserci, per ripianare i bilanci, cioè ripianare la spesa corrente. Se si vendono immobili, si investe in nuovi immobili, come deve esserci lì a Villa Parma, dobbiamo fare due strutture nuove, c'è da fare una nuova struttura in via Toscana, come ci hanno detto, punto. Quindi i soldi che si vendono del patrimonio vanno reinvestiti nel patrimonio. Per noi questa è una condizione dalla quale non si può prescindere. E ora il momento della rubrica dedicata all'approfondimento dell'attualità sindacale. Tra i temi scottanti di questo periodo continua a mantenere una posizione di rilievo il destino dei cosiddetti lavoratori esodati, definizione a cui si è recentemente aggiunta quella di salvaguardati, giusto per rendere ancora più fumosa una questione già abbastanza bizantina. Abbiamo ritenuto utile provare a fare il punto su questa spinosa materia insieme a Nadia Ferrari, direttrice del patronato Inca della Cigelle di Parma, consapevoli dei mille dubbi che affliggono coloro che si trovano o pensano di trovarsi nella condizione di esodati. Innanzitutto, 65 mila più 55 mila, 350 mila sugli esodati si danno fin troppi numeri. Qual è ad oggi la situazione e come si stanno muovendo i patronati come l'Inca per assistere le persone interessate? In queste ultime settimane, dopo l'approvazione del decreto che ha stabilito anche le modalità di attuazione per tutti i lavoratori cosiddetti salvaguardati, noi abbiamo avuto la possibilità di incontrare molte persone. È evidente che ci sono delle criticità date dal fatto che la lista che ha ricevuto l'Inps dalla direzione nazionale è una lista che comprende molti lavoratori ma non è assolutamente completa. È una lista che a nostro avviso deve essere integrata e ci sono molte persone che rischiano di rimanere escluse. Il fatto che possano rimanere escluse ci crea molta preoccupazione perché potrebbero non rientrare nella platea finale dei 65 mila lavoratori cosiddetti salvaguardati che potranno andare in pensione con la vecchia normativa. Come patronato Inca abbiamo verificato nei nostri archivi, ad esempio, tutti coloro che dal 2008 ad oggi sono passati da noi per fare la domanda di mobilità, per avere dei riferimenti e per cercare di non dimenticare nessuno. Abbiamo fatto questa indagine, molti di questi lavoratori sono andati in pensione, altri hanno ripreso l'attività lavorativa, però molti di questi stanno ricevendo delle telefonate dal nostro patronato in cui noi li invitiamo a presentarsi presso i nostri uffici per verificare la loro posizione. Perché questa è un'occasione che non può essere persa, nel senso che noi vediamo come, quale sarà, quale potrebbe essere la loro uscita e se sono lavoratori da inserire nella lista dei cosiddetti salvaguardati. Quali sono ad oggi le maggiori criticità evidenziate? La difficoltà maggiore riguarda quelle persone che non compaiono nei nostri archivi, ma neanche in quelli dell'Inps, che sono ad esempio i genitori di figli con handicap in congedo biennale, oppure coloro che sono usciti con accordi di esodo, i cosiddetti veri e propri esodati, con accordi individuali o collettivi e che essendosi dimessi non hanno potuto presentare domande né di disoccupazione né di mobilità e che quindi non c'è traccia di queste persone nei nostri archivi e noi non possiamo contattarle. Diciamo che questi sono i soggetti che ci preoccupano di più perché temiamo che possano fare scappare questa occasione, perdere questa occasione. Tra l'altro mi preme evidenziare che a luglio è stato approvato, ad agosto scusate, è stato approvato il decreto sulla spending review che ha inserito altri 55 mila lavoratori che potranno andare in pensione con le vecchie regole. Quindi anche queste persone dovranno essere contattate in futuro e noi riteniamo che qualcuno che è escluso dalla prima partita possa rientrare in questa seconda partita. Insomma, cosa deve fare un lavoratore che ritenga di rientrare nella casistica prevista dal decreto esodati? Sicuramente deve venire presso il nostro patronato perché noi avremo cura di fargli la posizione aggiornata e soprattutto se non rientra nella lista lo segnaleremo. Non solo, i lavoratori di cui parlavo prima, i cosiddetti esodati, quelli in congedo, quelli che appunto oppure sono stati messi in esodo dallo Stato, hanno un ulteriore adempimento che è quello di presentare una domanda alla Direzione Territoriale del Lavoro entro il 21 novembre del 2012 perché la loro posizione potrà essere aggiornata soltanto dopo che la Direzione Provinciale del Lavoro avrà esaminato e accolto la loro domanda. Quindi l'invito è proprio quello di venire presso i nostri uffici e provvedere a fare insieme ai nostri operatori la verifica della posizione e le conseguenti operazioni che li potrebbero assicurare di entrare in una lista che, mi preme dirlo, noi lo ripetiamo continuamente, dovrà essere inviata alla Direzione Nazionale dell'Inps e sarà l'Inps a livello nazionale che determinerà l'elenco dei 65 mila lavoratori salvaguardati e dei futuri 55 mila e nelle circolari che abbiamo letto fino ad oggi un criterio, diciamo il criterio ordinatorio è quello della cessazione del rapporto di lavoro. Chi prima ha cessato e ha i requisiti, ha prima la possibilità di altri di entrare in questa lista di salvaguardati. Non è detto che i 65 mila e gli ulteriori 55 mila rappresenti il numero di tutte le persone che in effetti avrebbero i requisiti per potervi accedere, ma noi sappiamo che tutto è subordinato alle risorse economiche che saranno messe a disposizione dal Governo. Siamo ormai al termine, per motivi di spazio in questa puntata abbiamo dovuto sacrificare le rubriche dedicate all'informazione in pillole e al consumo consapevole che torneranno prossimamente. Vi ricordo che potrete rivederci oltre che sul nostro sito www.cglparma.it in replica su questa stessa emittente lunedì 10 settembre alle 19.15. Nuovi lavori in corso, vi aspetta invece con una nuova puntata lunedì 17 settembre ancora una volta alle 19.15 su Teleeducato. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata e come sempre buon lavoro a tutti! Grazie a tutti!